eccoci qua no man sky allora abbiamo praticamente parte seconda abbiamo riparato il motore gli ho dato il trizio così è vedete che è bello carico di energia adesso dobbiamo creare la ferrite pura ok raga allora io ho creato il raffinatore portatile che è un'introduzione che hanno fatto dopo ah che bello che il carbonio non c'è ferrite ferrite e sottuta l'avevo creata già andiamo un attimo se si può riparare io direi proprio di sì raga tecnologia riparata che figata mezzo riparato ragazzi ok allora carbonio ragazzi eh carbonio ferrite il carbonio così direi che carbonio non c'è non c'è no queste ferrite questo non è il maletto sì sì ossigeno ragazzi non c'è no bisogno carbonio se è vicino vai tratte se avvite ancora quello cosa mi dà? idrogeno un po di unità vabbè insomma diciamo che possiamo andarcene via da sto cazzo di pianeta allora l'ha ferrite ragazzi adesso secondo me vediamo un attimo che cosa bisogna fare uranio r2 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 un vero pieno di ghiaccio polvere riferite un vero pieno di ghiaccio 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 Sì, è vita, sì. Sì, è vita della conoscenza, bello. Oh, bello. Questi sono i salva, eh. Sì, non è vero, non c'è più tempo. Ok. carburante esaurito in possibili ostazioni, in possibili rischi, non posso che nel sottosuolo, attivato, computer base computer base metallo cromatico allora 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 fai il gel e cos'è che voleva prendere proprio qui anici di carbonio, eh? due ok no multi tool ok perfetto manipolatore ok ok sponzo le difficoltà, eh, ragazzi ok 50 mi sembra perfetto ok 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 a rame eccolo là il tubero congelato ora ragà ma qua sta andando giù brutto per il freddo il sodio il sodio raga dove va il sodio carbonio un'altra pianeta no che non sarebbe no ok dov'è il carbonio carbonio vedete cosa c'è 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 Posso mangiare qualcosa? No, trasferirlo. Sono sempre disponibili per l'inventario della tuta. Ecco, 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 non avevo scoperto questa qui, ma io mi chiedo, oh, oh, questo cos'è? Sì, no, l'avevo scoperto. Dov'è la nave? Possibile che non riesco a mandarlo alla nave? Adesso posso andare alla nave? Sì, no, l'avevo scoperto. Sì, no, l'avevo scoperto. Sì, no, l'avevo scoperto. se qua si sta congelando tutto è una nave qui fa un po' è un po' non mi interessa la polvera inferita ragazzi che c'è? grande ecco la non mi interessa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è qua. Grazie a tutti. 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 Eccolo la... Ok... 60 rame... Se mi permetti... Cos'è... Cos'è... Devo tornare a una nave, ragazzi. Ma insomma, insomma, sto mondo di ghiaccio, se io preferivo il ghiaccio al caldo del mondo di prima, tra i due. Ma insomma, 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 insomma. No, 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 no. No, 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 no. Torniamo alla nave, facciamo quello che ci chiede. Metallo cromatico. Questa è la struttura organica, andiamo un attimo a vedere qui. Questa è la struttura organica. Questa è la struttura organica. Vediamo che quella si può svuotare. Wow. Wow. Questa è la struttura organica. No, 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 no. Si cede? Ma dalla strada? Cos'è? Ah no, ma ha dato qualcosa. Questa è la struttura organica. 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 Grazie a tutti. 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 Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, come si gira... Grazie a tutti. Bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce n'è... Andiamo... Ok... con la porta... e... Perfetto... e... Ok... ... Bello... Bello... ... Ok... 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 che cos'è... che... ... ... ... ... ...